I tuoi capelli diventano sempre più fini e radi? E pensi che il diradamento non possa far altro che peggiorare? Questo perché ancora non conosci Fondonatura Therapy Plus Advanced. E no, questo non è il classico prodotto che promette e non mantiene. Vieni a scoprirlo con me. Fondonatura Therapy Plus Advanced è un trattamento che combina fiale e shampoo. Agiscono insieme per dare nuova vita ai capelli di uomo e donna. Formulato con principi attivi naturali, derivanti da piante officinali, rinforza i capelli dalla radice, riducendone la loro caduta. Questo trattamento naturale non solamente ti aiuta a contrastare il diradamento, ma stimola la ricrescita dei tuoi capelli. Vedrai rinvigorire le radici, la densità e il volume. Che adesso temi di aver perso per sempre? Molte persone che lo hanno provato hanno visto netti miglioramenti dopo il primo mese di utilizzo costante. Anche loro, come te, sentivano quel disagio che stai provando ogni volta che guardi la tua capigliatura così diradata. Gli ingredienti naturali, che compongono Therapy Plus Advanced, rafforzano e nutrono i capelli, trattandoli con delicatezza, senza l'utilizzo di sostanze chimiche o aggressive. I principi attivi biologici ridoneranno la naturale luminosità alla tua capigliatura. Metti da parte le insicurezze e prova subito Fondo Natura Therapy Plus Advanced. Dona nuova vita ai tuoi capelli. Lo trovi sul nostro sito capellissimo.com. I link sono in descrizione del video. Iscriviti alla lista clienti VIP di capellissimo.com. Riceverai subito uno sconto di benvenuto e nel tempo le esclusive offerte e codice sconto per i nostri migliori clienti. Trovi tutti i link in descrizione di questo video. Therapy Plus Advanced di Fondo Natura È particolarmente indicato per le seguenti tipologie di perdita dei capelli. Perdita di capelli durante la doccia e la pettinatura Quando trovi troppi capelli, sia sul pettine che sul cuscino Stress Quando la tensione nervosa e emozionale compromette la salute dei capelli Fase iniziale della calvizie Quando noti un diradamento più marcato, nella zona delle tempie per uomini e nella parte alta della testa per le donne Stagionale La caduta dei capelli che si verifica principalmente in primavera e autunno Alimentazione Quando la tua dieta non è in grado di apportare i nutrienti ai capelli In questi casi, Therapy Plus Advanced si è dimostrato particolarmente efficace I principali ingredienti di Therapy Plus Advanced Eccetil tetrapeptide 3 Un peptide avanzato noto per le sue proprietà rigeneranti Agisce rafforzando i follicoli dei capelli Aiutando a prevenire la caduta e stimolando la crescita Estratti di trifoglio rosso Questa pianta officinale è ricca di isoflavoni Noti per le loro proprietà rinforzanti e stimolanti sulla chioma Estratti di pino Conosciuto per le sue proprietà tonificanti Il pino aiuta a rinvigorire e a rinforzare i capelli dall'interno Aminoacidi biomimetici Questi aminoacidi imitano quelli naturalmente presenti nei capelli Contribuendo a ripararli e a rafforzarli Migliorando nell'aspetto e la salute complessiva Trovi la lista completa degli ingredienti nella scheda prodotto Fondo Natura è una azienda italiana Che realizza prodotti professionali con ingredienti naturali Combina l'innovazione e la ricerca Alle tecniche artigianali di produzione Con oltre 40 anni di esperienza I prodotti Fondo Natura sono molto diffusi e apprezzati Nei saloni di bellezza nel Sud Italia Offre formazione e specializzazione ai professionisti dei capelli Con la sua Academy Therapy Plus Advanced è uno dei prodotti di maggior successo Nel catalogo di Fondo Natura Troverai anche cosmetici anti-forfora Anti-caduta Linee specifiche per capelli ricci E anti-crespo Meravigliosa la collezione di prodotti per la barba e rasatura E la delicata linea di solari Tutti realizzati con i migliori ingredienti naturali Puoi scoprire e acquistare i prodotti di Fondo Natura Dal nostro shop online capellissimo.com È arrivato il momento di far risplendere i tuoi capelli Donando forza e lucentezza Con Fondo Natura Therapy Plus Advanced